Allora, il libro Stalking sconfiggio si può, siamo nel 2023, dobbiamo sconfiggere questo cancro del XXI secolo, denunciate, non avete paura, questo mi dice il mio libro, vi consiglia cosa fare, cosa non fare, a chi riforgersi, bisogna prima informarsi, informarsi per prevenire e combattere il male del XXI secolo, sconfiggere lo Stalking, io ci sto mettendo la faccia, mettiamoci tutti, non voltiamoci dall'altra parte, aiutiamo le vittime, tutti, lo Stato, le istituzioni, chi denuncia non deve essere vittimizzata.